di Bruxelles. In realtà anche questa è Europa. Lo è la Garibaldi che con la bandiera dell'Unione Europea... Molto facile in questa stagione del nostro tempo lamentarsi soltanto, fare polemiche. È molto facile trovare degli alibi, dei colpevoli, dei capri espiatori. L'Europa è il capro espiatorio perfetto per tante donne e uomini del nostro continente. C'è un problema, colpa dell'Europa. Quello che stiamo cercando di fare, e ringrazio di cuore il Presidente Hollande e la Cancelliera Merkel, come ringrazio tutti gli altri nostri colleghi, come ringrazio il Presidente Juncker e il Presidente Tusk, è quello di far vedere alle nuove generazioni che l'Europa è innanzitutto pace, libertà, prosperità.